Due pescatori di Frodo sono stati sorpresi nel pomeriggio di ieri a Mancaversa, frazione di Taviano, dagli agenti di polizia della sezione nautica. Erano muniti di tre bombole e tre fucili ad aria compressa, ma sono stati scoperti. Oltre al sequestro dell'attrezzatura è scattata anche una sanzione. L'attrezzatura era quella solitamente utilizzata per la pesca in immersione. Il carrello e il gommone, rimorchiato da una Volkswagen Golf con erogatori e bombole a bordo, hanno insospettito gli agenti, che hanno quindi fermato i pescatori di Frodo. I due sub sono stati sorpresi nei pressi dello scivolo di alaggio delle imbarcazioni, mentre stavano per rientrare da una battuta di pesca. Da un primo controllo dell'imbarcazione è stata rinvenuta l'attrezzatura ARA, due gruppi di bibombole, composti ciascuno da una bombola di 15 litri e una di 5 litri, completi di erogatore. In una borsa sono stati trovati tre fucili da sub ad aria compressa, completi di asta e arpione. Poiché è vietata l'associazione di fucili da mare ad attrezzatura ARA, si è proceduto ad una contestazione che prevede una sanzione amministrativa di 1000 euro, nonché al sequestro di tutta l'attrezzatura.